Mi chiedo cosa faresti se ogni notte tu avessi il potere di sognare qualsiasi sogno volessi sognare? Se ogni notte ogni tuo sogno durasse lo spazio di una vita umana durante la quale tu potessi vivere ogni esperienza che desideri e ogni fine di quelle vite fosse solo il momento in cui ti svegli da quei sogni. Probabilmente all'inizio sceglieresti di fare tutto ciò che più ti piace, sceglieresti per te una vita colma di abbondanza, festeggiamenti, celebrazione, visiteresti tutti i luoghi che hai sempre desiderato vedere e creeresti nel tuo sogno quei luoghi che ancora nessuno aveva mai sognato prima. Forse all'inizio ci sarebbero solo il piacere e la bellezza, tutto nel tuo sogno sarebbe proprio lì dove volevi che fosse. Ma da un sogno all'altro, dopo qualche migliaio di anni passati a celebrare, di sicuro avresti voglia di qualcosa di più avventuroso e sogneresti magari epiche avventure in cui imbarcarti, draghi e principesse da salvare, montagne da scalare e nuovi mondi da conquistare. E a un certo punto neanche tutto questo ti basterebbe più. Forse a quel punto sceglieresti l'avventura più rischiosa ed eccitante di tutte, quella di sognare un sogno dove non sai più di sognare, quella di vivere una vita che ti appare l'unica cosa che esiste, l'unica possibilità, l'unica cosa che ricordi di te stesso. Immaginare che questo sogno sia reale e sentire l'eccitazione che questo crea dentro di te, fino a un nuovo risveglio e poi verso un nuovo sogno. E di sogno in sogno ti spingeresti sempre più oltre, gareggiando con gli altri sognatori come bambini che giocano a sfidarsi. Quanto oltre possiamo andare? Quanto oltre? Quanto possiamo perderci in questo sogno e dimenticarci del nostro potere? Dimenticarci chi siamo? Immagina l'eccitazione ad ogni risveglio. Dopo solo poche ore di sonno che durano come una vita intera. Una vita in cui hai vissuto senza sapere di sognare. E di sfida in sfida ti troveresti alla fine a sognare il sogno che è la vita che stai vivendo proprio ora, proprio qui. Esattamente questa vita tra le infinite possibilità del multiverso. Mi chiedo cosa faresti se improvvisamente ti ricordassi di avere scelto questo sogno che chiami realtà. E se ti ricordassi in un istante di quel momento in cui hai deciso di andare a dormire e di sognare un sogno, dimenticandoti di te stesso. Cosa faresti sapendo che tra poco ti sveglierai di nuovo e che la tua vita intera sarà passata come un soffio mentre stavi solo sognando? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.